Un dono di Dio, Don Antonio Baionetta, che ha festeggiato il cinquantesimo anniversario di sacerdozio, una vita a fianco dei fedeli, delle famiglie e dei giovani della provincia eblea. Padre Baionetta, oggi parroco della Chiesa Madre di Comiso, Santa Maria delle Stelle, si emoziona quando racconta della madre che lo donò a Dio il giorno della sua nascita e dei suoi anni spesi per la comunità dei fedeli, da Vittoria Scoglitti per 20 anni e poi dal 1998 a Comiso. Posso dire che non sono stato io a scegliere, ma sono stato scelto. Mia mamma mi diceva che quando io sono nato, prima di me aveva perduto tre bambini. Uno dopo l'altro, dopo alcune settimane di vita, morivano e anch'io stavo facendo la stessa fine. Era l'antivigile di Natale, il 23, notte sono nato, essere volta Gesù Bambino, fammelo vivere. Se me lo dai, io lo do a te, te lo consacro. Poi sono andato avanti. Ma all'età di 10 anni, in varie circostanze, la spinsero a realizzare questo sogno, a dire questo sì al Signore. E così mi mandò in seminario a Siracusa. Pensandoci, uno dovrebbe sentirsi già con le forze cadute, la fine. E invece sento che il passato, piuttosto che così accasciare o stancare, vedo che mi dà vigore, vedendo tante persone che si sono fatte sentire. Tutto questo mi fa dire che è bello, insomma, avere speso una vita così, essere stato utile a tanta gente, essere stato a occasione di scoprire orizzonti di vita per tante persone. Presenti alla celebrazione anche il sindaco di Comiso Giuseppe Alfano, l'arcivescovo emerito di Agrigento, Monsignor Carmelo Ferraro, Monsignor Calì della chiesa di San Giovanni Battista di Vittoria. Un cinquantesimo molto sentito anche per il vescovo della diocesi di Ragusa, Monsignor Paolo Urso, che ha celebrato la funzione religiosa, visto che quest'anno ricorre anche per lui il cinquantesimo anniversario sacerdotale che festeggerà ad ottobre. Naturalmente la conoscenza è profonda perché va all'inizio del seminario per lui, io lo ebbi in Camerata parecchi anni come prefettino della Camerata, una conoscenza che poi è diventata amicizia profonda sia nell'età, sia nel sacerdote e anche negli elementi pastorali. Tantissime volte ci siamo confessati reciprocamente. Padre Bainetta intanto è un grande sacerdote, servo del Signore e dei fratelli. Ha lasciato un'impronta sacerdotale dovunque è arrivato, è stata una benedizione di Dio per tutti. In questo giorno il grazie deve salire dal cuore di tutta la comunità e tutta la chiesa.